Non si ferma l'ondata di maltempo che ha investito la Sicilia nelle ultime settimane. Dopo l'allerta degli scorsi giorni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati anche da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. È stata valutata pertanto anche per la giornata di oggi l'allerta gialla. Intanto sale il conto dei danni nelle campagne colpite dal maltempo, contemporane e grandine che si sono abbattute sulle coltivazioni in un mese di maggio particolarmente delicato per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo, le piante che cominciano a dare i primi frutti e l'arrivo del primo fieno, chiamato appunto magengo, necessario per l'alimentazione degli animali. È il bilancio fatto dalla Col di Retti. L'anomalia climatica si fa sentire però lungo tutta la penisola dove, precisa, si è verificata una vera strage per verdure, cereali e frutta con danni a vigneti, agrumeti, oliveti, fragole, albicocche, ciliegie, pesche e cocomeri. A causa di una primavera maledetta si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane anche se bisognerà attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e quantificare l'esatta entità del danno. Lo stato di sofferenza della natura sostiene la Col di Retti e reso evidente dalle api con la produzione di miele che quest'anno, fino ad ora, è praticamente azzerata per il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare. Il poco miele che sono riuscite a produrre se lo mangiano per sopravvivere. L'ondata di maltempo fuori stagione è l'evidente conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma tanto da avere condizionato nell'ultimo decennio la redditività del settore agricolo con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ormai ricorrente. Il risultato, conclude la Col di Retti, è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l'agricoltura italiana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola nazionale.